Grazie Carlo! Un bacio a Carlo! Ciò è il vino! Vi amano, vi abbraccio! Non sappiamo più cosa dire perché ci seguite veramente in tante e ci mostrate il vostro calore sempre Noi salutiamo gli amici che hanno fatto con noi questo bellissimo video questa bellissima pizza che si chiama Miizza proprio detto così, eh! Imparatelo pure voi! Miizza! L'occhio aguto e un po' il lato stretto e mi... Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! 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 La prima sequenza, tutto a destra, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, chiudo, 1, 2, chiudo, e giro, giro, e cia, cia, cia. Fate attenzione, quando arriva il punta-tacco, chiudo, punta-tacco, chiudo, è un po' di velocità. Vabbè, continuiamo con la prima sequenza, tutta a sinistra, 7, 8, 1, 2, chiudo, 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 chiudo. e accoggi, mi giro, accoggi, mi giro, prego. Questa è una piccolissima terza, una piccolissima terza sequenza che in circa permetterà di girare al quadrato, facciata ultima, 7, 8, 1, 2, cia, 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 arrivo e bacio, gira, 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 andiamo sempre per le proprie fronte e indietro, avanti, cia, 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 e giro, 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 voilà, si cambia l'auto, ok? Avete capito quanto faccio? Da qui si inizia tutto a destra, poi tutto a sinistra, poi la seconda sequenza si gira, e poi di nuovo questa ultima sequenza e ti permetterà di girare ancora e cambiare l'auto. Questo è sempre un brano, Digital School Network Joyerina, questa grande collaborazione è nata un anno fa e devo dire grazie di aver incontrato persone serie, persone che amano lavorare come noi, forse più di noi. Allora vi saluta, Luigi, vi saluta, Arda Vino, grazie, ciao, vado a posto. Arda Vino, grazie, ciao, vado a posto. Arda Vino, grazie, ciao.